La Giunta Municipale del Comune di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, su proposta dell'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi, ha recepito l'accordo territoriale per il canone concordato. Tale accordo, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, numero 431 e del decreto ministeriale del 16.1.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato raggiunto in data 4 dicembre 2019 e protocollato ieri presso lente, tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello provinciale. A tutt'oggi non era mai stato sottoscritto alcun accordo in tal senso per la città di Agropoli. Il canone concordato, sottolineano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi, consentirà importanti agevolazioni sia per i proprietari che per gli inquilini e di attuare nel prossimo futuro l'allargamento del mercato agli immobili attualmente non locati, l'accesso alle locazioni a quei settori sociali che attualmente ne sono esclusi, la riduzione delle imposte e l'emersione del mercato degli affitti in nero. Un ringraziamento particolare va al consigliere Giuseppe Di Filippo per l'interlocuzione avuta con i sindacati di categoria. Il canone concordato comporta vantaggi sia per i proprietari di immobili che per gli inquilini. Nel primo caso, per questa tipologia di contratti, sarà possibile ad esempio optare per una tassazione mediante applicazione della cedolare secca del 10% che sostituisce IRPEF, addizionali in posta di bollo o registro. Per gli inquilini si garantisce invece la certezza contrattuale e un canone calmierato, con l'aggiunta di importanti agevolazioni fiscali, vantaggi che sono rivolte principalmente a giovani, coppie e percettori di redditi più bassi.